faccia affittasi la storia comincia così attore professionista affitta propria faccia ma non è un'inserzione qualunque è il passaporto per entrare nella vita della gente nel quotidiano che è la nostra grande avventura faccia affittasi una serie di film commedia di josé maria sanchez con gianni cavina valentina cortese vittorio caprioli faccia affittasi mercoledì 20 e 30 rai 1 trasmettiamo quella notte a ravenna ovvero renzo arbore e la sua band in concerto un'inserzione qualunque non è un'inserzione qualunque non è un'inserzione qualunque non è un'inserzione qualunque non è un'inserzione qualunque ciao a tutti e questa è la nostra sigla a chi ci piace la disco musica a chi l'orchestra posto un sinfonito a noi per darci un bivito sul collo ci piace solo il rock'n'roll la sigla della barilla buggy band con massimo nunzi alla tromba a chi ci piace il rock'americano